Paolo Barillari, abbiamo già parlato della parola Signor G, abbiamo anche i due proprietari del Teatro Derby che hanno il piacere di ospitare questo spettacolo il 18 giugno. Come mai avete ospitato la parola Signor G? Beh, innanzitutto perché è un tributo a Gaber e per cui fa sempre piacere rappresentare qualcosa di Gaber. Anche se spesso i teatri rappresentano qualcosa di Gaber, non è una critica verso altri, però è difficile interpretare Gaber. E se lo si interpreta nel modo sbagliato lo spettacolo non è piacevole perché il ricordo di Gaber è insostituibile, cioè non interpretavo in pezzo. Devo dire invece che ho potuto vedere come lo interpreta Paolo Barillari e è veramente bravo. Gaber come lo interpreta Paolo vi assicuro ne vale la pena vederlo, per cui quella data non perdetevi lo spettacolo perché lui ha delle caratteristiche che io conoscevo come cantante di un altro genere, infatti ha fatto il cantante in Google Rock che è stato molto bravo eccetera, però devo dire che qui nello spettacolo mentre interpreta Gaber è molto più bravo. Per cui chi l'avesse visto in Google Rockio ha visto solo una parte di Paolo e ne vedrà un'altra, che verrà sorpreso da un'altra parte di Paolo che anche io non conoscevo. È un Gaber diverso, giustamente, da come lo interpretava Giorgio, però devo dire che toglie pochissimo alle opere firmate da Gaber. È veramente bravo, è un bellissimo spettacolo e spero che lo vediamo in tanti parche neri. E Rodolfo è d'accordo? Rodolfo esprime, fa le fusa per cui esprime decisamente il suo assenso. Una cosa io vi ringrazio sia a te che a Mauri per questa opportunità che vi concede. Venite a vederci sabato 18 giugno ore 16 ore 21, vi aspetto, un bacio. Ciao.